e se vi dicessi che con il nasdaq almeno 30% dei massimi io nel 2022 ho fatto un anno super beh mentirei perché infatti non è così prima di iniziare però ci tengo brevemente a chiedervi scusa per l'assenza su youtube purtroppo ho dovuto prendere in mano le redini del mio studio visto che per chi non lo sapesse ho una società di consulenza e contabilità per le aziende e tra l'altro piccolo spoiler sto iniziando a studiare per dare l'esame da consulente finanziario quindi rimanete sicuramente aggiornati prima che iniziate a chiedermelo tutti il broker che utilizzo io si chiama trading212 è un broker che utilizzo ormai da 3 anni e tra l'altro se avete piacere di provarlo potete provare a scaricarlo tramite il link in descrizione che è un link che invita un amico e iscrivendovi appunto tramite quel link li avete la possibilità di ricevere un'azione gratuita da un valore massimo di 100 dollari a me in passato è già capitato anche di ricevere azioni snapchat che ai tempi valevano 70 dollari quindi se avete fortuna potete ricevere anche dei bei soldi io principalmente lo consiglio perché lo utilizzo e mi piace tantissimo poi c'è anche quel plus valore lì dell'azione gratuita che ricevete detto questo una cosa che vi voglio far vedere è il perché un po' sto rosicando questa era la performance del mio portafoglio che ha toccato il picco mi pare adesso purtroppo si vede solo di mese in mese però mi pare che la performance massima l'abbia toccata intorno al 16 novembre dove avevano un profitto del 45% mi pare ovviamente l'importo era basso perché come vedete l'importo è su 18.000 euro investiti tra l'altro per chi non lo sapesse questo è un portafoglio pubblico che utilizzo io in cui vi mostro anche l'andamento delle mie scelte per chi fosse interessato ci sono anche video passati in cui mostravo già il portafoglio e i vari acquisti e vendite ebbene sì quindi nell'ultimo anno all'incirca io come potete vedere adesso sto all'incirca un annetto o avrò perso più o meno 7.000 euro perché mi pare che il picco massimo l'abbia toccato appunto come vi dicevo a fine novembre in cui sto guardando all'incirca 8.000 euro adesso sono in profitto di 1.000 euro quindi più o meno all'incirca ho perso 7.000 euro che non è male non è male signori ma ragazzi qual è la cosa che tra virgolette mi fa stare sereno è il fatto che questo portafoglio qua era in fase di accumulo infatti nell'ultimo anno io ho depositato veramente tanti soldi infatti sono passato da 18.000 euro investiti a 24.000 quindi praticamente durante i crolli ho investito altri 6.000 euro ci tengo sempre a precisare che questo è il portafoglio pubblico oltre a questi 6.000 euro qua investiti su questo portafoglio qua ho investito altri 5.000 euro su Moneyfam tra l'altro se avete piacere di ricevere una recensione totalmente imparziale riguardo Moneyfam fatemelo sapere qua sotto nei commenti magari anche lasciando un like e io vi porterò appunto una recensione visto che ho investito anche per diversificazione 5.000 euro appunto su Moneyfam all'incirca a luglio e un'opinione già me la sono fatta quindi se avete piacere di sapere fatemelo appunto sapere con un commento per chi fosse interessato questa appunto 8% è la mia performance analizzata da quando ho iniziato a investire su questo portafoglio qua quindi non è male considerando che gli indici principali quindi Nasdaq e S&P 500 sono all'incirca tra il 20 e il 30% in negativo rispetto ai massimi direi che è un buon risultato considerando che il mio obiettivo dichiarato è quello di sovraperformare il 10% anno per chi si stesse chiedendo come ho calcolato la performance analizzata ho utilizzato il Money Weight Rate of Return che vi permette appunto di calcolare il rendimento dei vostri investimenti tenendo conto appunto degli afflussi e dei deflussi di denaro per farlo basta semplicemente che io ho creato una pagina a parte inserite tutte le volte che avete investito dei soldi o in questo caso qua verso il fondo anche se le avete tolte ad esempio con le relative date di fianco e impostate il valore attuale del portafoglio nell'ultima data con data di oggi basta semplicemente che mettete uguale oggi con questa formula qua qua mettete il valore attuale del portafoglio e utilizzate questa formula qua che si chiama tier.x e vabbè se avete piacere questa qua è la formula quindi se volete copiarvela è semplicemente questa qua per comodità vi faccio vedere semplicemente quali sono le mie 5 maggiori posizioni cioè ne parlerò nel dettaglio e vi farò vedere anche le 5 posizioni sulle quali sto perdendo più soldi come potete vedere le mie 5 posizioni più grandi sono Google, Pinduo Duo, Microsoft, Westrock, Nvidia Nvidia considerate che io ho praticamente sempre avuto 5 azioni ha toccato un picco anche se non ricordo male un picco abbastanza elevato quindi io ho avuto anche all'incirca 1500 euro in Nvidia quindi avrò perso più o meno il 50% dai massimi però sono sempre stato in profitto perché Nvidia io l'ho comprato durante il crollo del Covid quindi di marzo 2020 quindi sono sempre stato veramente tanto in profitto stessa cosa su Neo che ho sempre avuto praticamente una trentina di azioni ce l'ho avuta anche a 70 praticamente quindi ero messo anche abbastanza bene su Neo comunque Pinduo Duo sono contento perché io ho continuato sempre a accumulare l'ho sempre trovata a prezzi veramente veramente molto ragionevoli con in realtà che io ero entrato a prezzi molto più alti sono sicuro che qualche azione l'ho comprata anche sui massimi però ho poi sempre mediato perché la reputo veramente una grandissima azienda tra l'altro se avete piacere io potrei fare un video in cui vi spiego il perché ho investito su queste aziende più che rispetto alle altre o magari ad esempio in questo caso qua su Peloton perché ho smesso di comprare visto che è una posizione dove perdo il 60 e passa per cento guardate questo qua è la percentuale considerando il tasso di cambio in realtà io su Peloton starei prendendo il 70% quindi non benissimo comunque come vi dicevo queste qua sono attualmente le mie 5 posizioni più grandi pensate che come vi ho sempre detto io ho un portafoglio molto diversificato perché ho deciso di provare ad utilizzare un algoritmo sviluppato da me e un mio amico e quindi sostanzialmente sto cercando di creare un etf mio personale che sovraperformi all'incirca con una cinquantina di aziende le S&P 500 o comunque qualsiasi indice globale meno 5.44% è la differenza di performance che c'è tra il mio etf quello appunto creato da me e l'MCI World l'unica cosa che vi voglio far presente è il fatto che l'MCI World che io ho selezionato non è investito per nulla o quasi sulla Cina ed è per questo motivo che voglio trovare un altro etf da benchmarkare che investa anche nella Cina visto che la Cina sostanzialmente è un paese in cui io investo particolarmente visto che il valore attuale è 4.000 dollari sulla Cina praticamente considerate poi che sulla Cina perdo tanti soldi visto che una delle mie più grandi posizioni è Alibaba dove perdo 550 dollari e quindi inevitabilmente il benchmark deve anche considerare la parte di Cina che ho investito quindi valuterò se modificarlo o no comunque diciamo che in generale sono abbastanza contento di come ha performato il mio portafoglio negli ultimi due anni andando a vedere quali sono le posizioni sulle quali perdo più soldi in percentuale troviamo Baozun che per chi non lo sapesse è un'azienda cinese di proprietà anche di Alibaba viene considerata da tanti una Shopify cinese visto che dà supporto alle piccole e medie imprese ma anche grandi tra l'altro nello sviluppo di tutta la parte e-commerce del settore delle singole aziende ed è un'azienda che sto cercando di capire se conviene a questi prezzi qua mediare comunque nel caso vi aggiorno ovviamente l'altra azienda è Peloton sulla quale sto perdendo veramente tanti soldi in percentuale perché alla fine questi importi qua sono irrisori ed è un'altra azienda che voglio capire perché sta cercando di fare un turnaround anche negli ultimi trimestrali sto leggendo appunto che il CEO a mio avviso sta facendo un buon lavoro ci sta mettendo parecchio tempo visto che purtroppo stiamo anche entrando in recessione negli user quindi tutto ciò rende più difficile il turnaround ed è per questo che sto aspettando per mediare perché voglio prima capire effettivamente dove si sta muovendo il business quindi sono ancora lì lì che devo decidere se incrementare la mia posizione o no le altre sono Upstart Holdings che a mio avviso è un'azienda spettacolare per chi non lo sapesse è un'azienda che sfrutta un algoritmo creato appunto da loro tra l'altro per chi non lo sapesse il fondatore è David Giroux che è un ex Google e sostanzialmente l'azienda ha creato appunto questo algoritmo che permette di calcolare il rating creditizio delle singole persone che richiedono mutui finanziamenti in generale o prestiti in generale appunto e quindi sostanzialmente facilita il prestito al consumo e le ultime due sono Splunk che tra l'altro oggi ha fatto una trimestrale clamorosa che dovrò leggere perché è uscita letteralmente mezz'ora da fare e lo solo ad occhiate mi sembra tanta roba e Block per chi non lo sapesse è una fintech americana sulla quale sto iniziando a incrementare perché ha raggiunto secondo me prezzi veramente veramente poco sensati vi ricordo come sempre che il broker che utilizzo è 3212 se avete piacere di provarlo trovate il link in descrizione se avete piacere che io faccia qualche video approfondito su qualche singola azione che ho fatemelo sapere che ve lo faccio tra l'altro se siete interessati vi faccio vedere anche magari i dividendi che ho ricevuto fino ad adesso come vedete qua ho ricevuto all'incirca 600 euro in dividendi e invece per quanto riguarda le plusvalenze o le perite realizzate ho all'incirca fatto 1900 euro quindi sostanzialmente ho guadagnato 1900 euro di plusvalenze 600 euro di dividendi e attualmente il mio portafoglio è in profitto di altri 1000 euro quindi diciamo che nel compenso sono veramente veramente molto contento detto questo ragazzi ci salutiamo e ci becchiamo al prossimo video